Ciao a tutti, ben trovati nel canale Ivi e Lascia Vivere. Oggi sono al ristorante che si chiama La Casa del Toño a provare un piatto tradizionale messicano che si chiama posole. Scusate se c'è troppo rumore, ma sono dentro il ristorante affollatissimo. Oltre a questo piatto, il posole, ho provato anche la birra con cile. Cioè, questa è birra con dentro il peperoncino, ragazzi, la miscelata di limone e sale. Io non l'avrei mai detto, ma è eccezionale. Allora, il posole è un piatto a base di mais. In questo caso c'è la carne di maiale. Se no, si poteva anche ordinare, vedete, non so se vedete il menù, con il pollo o se no comunque altre parti della carne di maiale. Come vedete c'è il mais, la carne di maiale, lattuga e ravanelli. E una salsa di pomodoro. Questo piatto viene utilizzato, è moltissimo lungo da fare e viene utilizzato in occasioni speciali, compleanni, matrimoni. Comunque in ogni occasione speciale viene fatto questo piatto, è moltissimo lungo da fare e quindi spesso viene fatto per essere consumato in giorni e giorni. Ovviamente mi interrompo, no? Mentre parlo. Vabbè. A questo piatto si vuole anche mettere dell'origano. Chi lo mette fresco, in foglie, oppure si può mettere anche così. Ah, profumatissimo questo origano. Ora assaggiamo, assaggiamo questo piatto, così vi faccio sapere. Sì, sì. Buonissimo. Quindi abbiamo provato anche il puzzle con i camerieri che vengono a chiedere continuamente se va tutto bene. E nulla, un saluto dal canale ID e lascia vivere. Ciao.